Benvenuti a un momento di profonda connessione e trasformazione. Oggi vi invito a immergervi in una potente invocazione all'Arcangelo Metatron, custode della saggezza divina e portatore della luce celeste. Immaginate un universo in cui le vie del successo, della prosperità, della salute e della vittoria sono completamente aperte per voi. Un luogo in cui ogni desiderio del vostro cuore si manifesta con chiarezza e scopo. Questo è il momento di allineare la vostra vita con le energie superiori, permettendo alla luce di Metatron di illuminare ogni aspetto del vostro viaggio. In questa preghiera sarete guidati a connettervi con le forze cosmiche, sbloccando il vostro potenziale illimitato e attirando l'abbondanza in tutti gli ambiti della vostra vita. Preparatevi a sentire la maestosa presenza dell'Arcangelo Metatron, che eleva la vostra vibrazione e porta a una nuova dimensione di realizzazione e pace. Fate un respiro profondo, aprite il cuore e la mente e permettete a questa esperienza trasformativa di toccare la vostra anima. Insieme, apriamo i portali della prosperità, della salute e della vittoria, accogliendo la guida divina di Metatron nella nostra vita. Iniziamo questo viaggio sacro. Sentite l'energia, la luce e l'amore che fluiscono da questo momento e permettete alla vostra vita di essere benedetta dalla grazia dell'Arcangelo Metatron. Che sia così e sarà così. Sentitevi ispirati e potenziati per questo viaggio di luce e trasformazione. Questa non è una preghiera ordinaria, è una potente invocazione che ha già trasformato la vita di molte persone. Ora tocca a voi sperimentare questa incredibile trasformazione. Questa preghiera esclusiva contiene informazioni preziose che possono cambiare completamente la vostra vita. Quindi è essenziale che la ascoltiate fino in fondo per capire come invocare correttamente l'Arcangelo Metatron e raccogliere i sacri frutti dello Spirito Santo di Dio. Prima di iniziare, nel nome di Gesù, nostro mentore e guida spirituale, vogliamo invitarvi a far parte della nostra famiglia di luce. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate il vostro like affinché questo video possa raggiungere e benedire più persone. Lascia la tua richiesta all'Arcangelo Metatron nei commenti e metti tutta la tua fede e il tuo cuore nel potere di questa preghiera. Amato Arcangelo Metatron, con umiltà e amore nel mio cuore, oggi mi rivolgo a te. Invoco la tua potente presenza e ti chiedo di aiutarmi ad aprire le vie della prosperità, della salute, della vittoria e dell'abbondanza finanziaria nella mia vita. Arcangelo Metatron, tu che sei uno degli angeli più alti e potenti del Paradiso, so che la tua luce è in grado di illuminare tutti i miei sentieri, guidandomi verso il successo e la realizzazione dei miei sogni. Ti chiedo di aiutarmi a superare gli ostacoli che impediscono il mio progresso in tutti i settori della mia vita. Che tu possa aprire le porte alle opportunità che mi permetteranno di raggiungere la prosperità finanziaria, la salute e la vittoria in tutto ciò che intraprendo. Con la tua potente energia, ti chiedo di proteggermi da qualsiasi male che possa colpirmi e di aiutarmi a mantenere la mia salute in perfetta armonia con il mio corpo e la mia mente. Che la tua luce risplenda luminosa nella mia vita, guidandomi verso il successo e la felicità. Che la tua saggezza divina e il tuo amore infinito mi accompagnino in ogni passo del cammino. Ti ringrazio, Arcangelo Metatron, per aver ascoltato le mie preghiere ed esaudito le mie richieste. Confido nella tua presenza divina e ti chiedo di aiutarmi a realizzare tutto ciò che è per il mio bene e per la gloria di Dio. O glorioso Angelo Metatron, tu che sei la luce divina che illumina tutti i serafini, ti chiedo di portare, con la tua sublime protezione, la tranquillità nel mio spirito. Affinché io abbia la forza necessaria per continuare e vincere in nome della verità. Amato Arcangelo Metatron, ti chiedo di avvolgermi con la tua energia divina, rafforzando la mia fede e la mia determinazione. Che io possa sentire la tua presenza in ogni momento della mia vita, guidandomi con la tua saggezza e proteggendomi con la tua luce. Che tutte le barriere e i blocchi che ostacolano il mio successo siano dissolti dalla tua potente forza. Possa la tua energia purificatrice rimuovere tutte le negatività e le influenze indesiderate, portando chiarezza e direzione al mio cammino. Arcangelo Metatron, concedimi la visione e il coraggio di andare avanti, anche di fronte alle avversità. Che io possa vedere oltre le illusioni e riconoscere le opportunità che l'universo mi pone davanti. Che la tua luce illumini i miei pensieri, permettendomi di prendere decisioni sagge e giuste. Ti chiedo di benedire la mia mente, il mio corpo e la mia anima, equilibrando tutti gli ambiti della mia vita. Che la tua energia di guarigione porti salute e vitalità, ripristinando qualsiasi squilibrio esistente. Che io possa sentire la tua presenza protettiva, sapendo di essere sempre sostenuto dal tuo amore infinito. Nel nome di Gesù, invoco la tua benedizione su ogni aspetto della mia vita. Che il mio viaggio sia pieno di pace, amore e abbondanza. Che ogni passo che faccio sia allineato con lo scopo divino, manifestando la mia vera essenza e portando gioia a me stesso e a tutti coloro che mi circondano. Ti ringrazio, Arcangelo Metatron, per la tua presenza costante e il tuo amore incondizionato. Che io possa essere un canale della tua luce, diffondendo benedizioni e ispirazione ovunque vada. Che la tua energia magnetica continui a guidarmi, aprendo porte e rivelando percorsi di prosperità, salute e successo. Che la tua luce risplenda su tutti i miei sentieri, principe degli angeli, irradiando l'illuminazione divina. Concedimi fortuna e rafforza la mia fiducia e la mia fede nei miei ideali. Sono sempre al tuo servizio, degno della tua protezione. Arcangelo Metatron, allontana da me tutte le impurità che potrebbero danneggiarmi. Che i miei sentimenti siano sempre elevati. Principe di questo mondo, ti saluto perché la mia esistenza sia serena e la mia vita tra bocchi d'amore mentre lavoro con dedizione. O Arcangelo Metatron, custode della vita, invoco il tuo aiuto e la tua guida mentre cerco la verità e la saggezza nel mio cammino spirituale. Guidami nella giusta direzione e aiutami a trovare le risposte che cerco per risolvere i miei problemi. Che queste risposte mi portino a un cammino di abbondanza e prosperità. Apri le mie strade e manifesta ricchezza e prosperità nella mia vita da oggi e per sempre. O Signore Metatron, Principe dei Serafini e Angelo Supremo della vita e della morte, Re degli Angeli, tu che sei il più vicino al trono di Dio, sei il legame tra noi esseri umani e nostro Padre. Sei responsabile della cura dei nostri amati Angeli e Arcangeli. Sei stato benedetto, portato direttamente in Paradiso, senza passare per la morte. Solo tu, Signore Metatron, puoi inviare un Angelo Illuminato per aiutarmi a risolvere le mie afflizioni. Ti chiedo di guidare il Santo Angelo che mi ha inviato per sciogliere i miei problemi e liberarmi dalle mie angosce. O Signore Metatron, potente protettore dell'albero della vita con le sue dieci sfere, saggezza, compassione, bellezza, rinnovamento, corona, regno, giustizia, comprensione, fondazione e vittoria. Che queste caratteristiche divine formino i simboli sacri che ci proteggono dai demoni e dagli spiriti maligni, portando tranquillità e amore affinché possiamo vivere in armonia. Arcangelo Metatron, luce di tutti i serafini, con la tua sublime protezione, aiutami nelle mie azioni, affinché abbia la forza di continuare e vincere sempre in nome della verità. Grido con tutta la mia anima all'Arcangelo Metatron, Principe degli Angeli, di illuminare tutti i miei sentieri con la tua luce divina. Ti chiedo dal profondo del mio cuore di concedermi la buona sorte e di camminare sempre fiducioso e fedele ai miei ideali, perché sono a tua disposizione e degno della tua protezione. O Arcangelo Metatron, ti chiedo di liberarmi da tutte le impurità che potrebbero danneggiarmi. Permetti che i miei sentimenti siano sempre elevati. Ti chiedo la salute, affinché io possa avere un'esistenza serena e una vita lavorativa piena d'amore. Che io sia purificato dall'invidia e dal rancore e che la mia fede non vacilli mai. Così sia e così sarà. Invito la presenza dei raggi oro e bianco che governano la vita nell'universo. O Arcangelo Metatron, invoco la tua presenza e tutti i tuoi svolgimenti nei tuoi 144 raggi alfa e omega per questo universo. Che i raggi d'oro e di bianco escano fiammeggianti, impregnando l'intero ambiente in cui mi trovo, purificando tutto ciò che non è luce, verità e giustizia divina. Autorizzo il mio se superiore a unificarsi con l'Arcangelo Metatron e il suo esercito di guerrieri delle luci bianche e dorate, affinché possano scansionare tutti gli stati di coscienza che hanno portato impedimenti allo sviluppo del mio scopo animico e della luce in questo mondo. Con le vostre spade della legge e della maggiore giustizia divina, autorizzo l'Arcangelo Metatron e il suo esercito di guerrieri dei raggi d'oro e bianchi a liberare tutti i frattali animici che possiedo nelle realtà fisiche e non fisiche di questa orbita terrestre. Arcangelo Metatron, ti prego di vegliare su di me e di proteggermi sempre. Che io possa sentire la tua presenza in ogni momento della mia vita, guidandomi lungo il sentiero della luce, dell'amore e della verità. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore per il tuo aiuto e per tutta la tua luce divina che illumina i miei sentieri. Arcangelo Metatron, invoco l'abbondanza materiale e finanziaria e desidero che il mio benessere fisico, emotivo e spirituale sia allineato. Sento che il mio sé superiore si attiva, allineandosi con i più grandi piani divini per questo pianeta e questa umanità. Sento la ricalibrazione dei miei stati superiori di coscienza, per realizzare la mia riconnessione con le strutture divine di cui sono parte. Lavoro diligentemente per prepararmi ai livelli ancestrali a cui sono destinato, secondo le mie scelte. Mi rendo conto che, chiedendo la guarigione e la preparazione, autorizzo l'Arcangelo Metatron e le schiere celesti dei raggi oro e bianco a mostrarmi tutti i cambiamenti necessari affinché io possa essere in piena e consapevole unificazione con le gerarchie superfisiche per il mio maggior bene e per il bene di tutti i regni di questo pianeta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amato Arcangelo Metatron, con umiltà e amore nel mio cuore, oggi mi rivolgo a te. Invoco la tua potente presenza e ti chiedo di aiutarmi ad aprire le vie della prosperità, della salute, della vittoria e dell'abbondanza finanziaria nella mia vita. Arcangelo Metatron, tu che sei uno degli angeli più alti e potenti del Paradiso, so che la tua luce è in grado di illuminare tutti i miei sentieri, guidandomi verso il successo e la realizzazione dei miei sogni. Ti chiedo di aiutarmi a superare gli ostacoli che impediscono il mio progresso in tutti i settori della mia vita. Che tu possa aprire le porte alle opportunità che mi permetteranno di raggiungere la prosperità finanziaria, la salute e la vittoria in tutto ciò che intraprendo. Con la tua potente energia, ti chiedo di proteggermi da qualsiasi male che possa colpirmi e di aiutarmi a mantenere la mia salute in perfetta armonia con il mio corpo e la mia mente. Che la tua luce risplenda luminosa nella mia vita, guidandomi verso il successo e la felicità. Che la tua saggezza divina e il tuo amore infinito mi accompagnino in ogni passo del cammino. Ti ringrazio, Arcangelo Metatron, per aver ascoltato le mie preghiere ed esaudito le mie richieste. Confido nella tua presenza divina e ti chiedo di aiutarmi a realizzare tutto ciò che è per il mio bene e per la gloria di Dio. O glorioso Angelo Metatron, tu che sei la luce divina che illumina tutti i serafini, ti chiedo di portare, con la tua sublime protezione, la tranquillità nel mio spirito, affinché io abbia la forza necessaria per continuare e vincere in nome della verità. Amato Arcangelo Metatron, ti chiedo di avvolgermi con la tua energia divina, rafforzando la mia fede e la mia determinazione. Che io possa sentire la tua presenza in ogni momento della mia vita, guidandomi con la tua saggezza e proteggendomi con la tua luce. Che tutte le barriere e i blocchi che ostacolano il mio successo siano dissolti dalla tua potente forza. Possa la tua energia purificatrice rimuovere tutte le negatività e le influenze indesiderate, portando chiarezza e direzione al mio cammino. Arcangelo Metatron, concedimi la visione e il coraggio di andare avanti, anche di fronte alle avversità. Che io possa vedere oltre le illusioni e riconoscere le opportunità che l'universo mi pone davanti. Che la tua luce illumini i miei pensieri, permettendomi di prendere decisioni sagge e giuste. Ti chiedo di benedire la mia mente, il mio corpo e la mia anima, equilibrando tutti gli ambiti della mia vita. Che la tua energia di guarigione porti salute e vitalità, ripristinando qualsiasi squilibrio esistente. Che io possa sentire la tua presenza protettiva, sapendo di essere sempre sostenuto dal tuo amore infinito. Nel nome di Gesù, invoco la tua benedizione su ogni aspetto della mia vita. Che il mio viaggio sia pieno di pace, amore e abbondanza. Che ogni passo che faccio sia allineato con lo scopo divino, manifestando la mia vera essenza e portando gioia a me stesso e a tutti coloro che mi circondano. Ti ringrazio, Arcangelo Metatron, per la tua presenza costante e il tuo amore incondizionato. Che io possa essere un canale della tua luce, diffondendo benedizioni e ispirazione ovunque vada. Che la tua energia magnetica continui a guidarmi, aprendo porte e rivelando percorsi di prosperità, salute e successo. Che la tua luce risplenda su tutti i miei sentieri, principe degli angeli, irradiando l'illuminazione divina. Concedimi fortuna e rafforza la mia fiducia e la mia fede nei miei ideali. Sono sempre al tuo servizio, degno della tua protezione. Arcangelo Metatron, allontana da me tutte le impurità che potrebbero danneggiarmi. Che i miei sentimenti siano sempre elevati. Principe di questo mondo, ti saluto perché la mia esistenza sia serena e la mia vita trabocchi d'amore mentre lavoro con dedizione. O Arcangelo Metatron, custode della vita, invoco il tuo aiuto e la tua guida mentre cerco la verità e la saggezza nel mio cammino spirituale. Guidami nella giusta direzione e aiutami a trovare le risposte che cerco per risolvere i miei problemi. Che queste risposte mi portino a un cammino di abbondanza e prosperità. Apri le mie strade e manifesta ricchezza e prosperità nella mia vita da oggi e per sempre. O Signore Metatron, principe dei Serafini e angelo supremo della vita e della morte, re degli angeli, tu che sei il più vicino al trono di Dio, sei il legame tra noi esseri umani e nostro padre. Sei responsabile della cura dei nostri amati angeli e arcangeli. Sei stato benedetto, portato direttamente in paradiso, senza passare per la morte. Solo tu, Signore Metatron, puoi inviare un angelo illuminato per aiutarmi a risolvere le mie afflizioni. Ti chiedo di guidare il Santo Angelo che mi ha inviato per sciogliere i miei problemi e liberarmi dalle mie angosce. O Signore Metatron, potente protettore dell'albero della vita con le sue dieci sfere, saggezza, compassione, bellezza, rinnovamento, corona, regno, giustizia, comprensione, fondazione e vittoria. Che queste caratteristiche divine formino i simboli sacri che ci proteggono dai demoni e dagli spiriti maligni, portando tranquillità e amore affinché possiamo vivere in armonia. Arcangelo Metatron, luce di tutti i Serafini, con la tua sublime protezione, aiutami nelle mie azioni, affinché abbia la forza di continuare e vincere sempre in nome della verità. Grido con tutta la mia anima all'Arcangelo Metatron, Principe degli Angeli, di illuminare tutti i miei sentieri con la tua luce divina. Ti chiedo dal profondo del mio cuore di concedermi la buona sorte e di camminare sempre fiducioso e fedele ai miei ideali, perché sono a tua disposizione e degno della tua protezione. O Arcangelo Metatron, ti chiedo di liberarmi da tutte le impurità che potrebbero danneggiarmi. Permetti che i miei sentimenti siano sempre elevati. Ti chiedo la salute, affinché io possa avere un'esistenza serena e una vita lavorativa piena d'amore. Che io sia purificato dall'invidia e dal rancore e che la mia fede non vacilli mai. Così sia e così sarà. Invito la presenza dei raggi a oro e bianco che governano la vita nell'universo. O Arcangelo Metatron, invoco la tua presenza e tutti i tuoi svolgimenti nei tuoi 144 raggi alfa e omega per questo universo. Che i raggi d'oro e di bianco escano fiammeggianti, impregnando l'intero ambiente in cui mi trovo, purificando tutto ciò che non è luce, verità e giustizia divina. Autorizzo il mio se superiore a unificarsi con l'Arcangelo Metatron e il suo esercito di guerrieri delle luci bianche e dorate, affinché possano scansionare tutti gli stati di coscienza che hanno portato impedimenti allo sviluppo del mio scopo animico e della luce in questo mondo. Con le vostre spade della legge e della maggiore giustizia divina, autorizzo l'Arcangelo Metatron e il suo esercito di guerrieri dei raggi d'oro e bianchi a liberare tutti i frattali animici che possiedo nelle realtà fisiche e non fisiche di questa orbita terrestre. Arcangelo Metatron, ti prego di vegliare su di me e di proteggermi sempre. Che io possa sentire la tua presenza in ogni momento della mia vita, guidandomi lungo il sentiero della luce, dell'amore e della verità. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore per il tuo aiuto e per tutta la tua luce divina che illumina i miei sentieri. Arcangelo Metatron, invoco l'abbondanza materiale e finanziaria e desidero che il mio benessere fisico, emotivo e spirituale sia allineato. Sento che il mio sé superiore si attiva, allineandosi con i più grandi piani divini per questo pianeta e questa umanità. Sento la ricalibrazione dei miei stati superiori di coscienza, per realizzare la mia riconnessione con le strutture divine di cui sono parte. Lavoro diligentemente per prepararmi ai livelli ancestrali a cui sono destinato, secondo le mie scelte. Mi rendo conto che, chiedendo la guarigione e la preparazione, autorizzo l'arcangelo Metatron e le schiere celesti dei raggi oro e bianco a mostrarmi tutti i cambiamenti necessari affinché io possa essere in piena e consapevole unificazione con le gerarchie superfisiche per il mio maggior bene e per il bene di tutti i regni di questo pianeta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amato Arcangelo Metatron, ti ringrazio per la tua presenza divine e per aver ascoltato le mie preghiere. Mi sento benedetto e protetto dalla tua luce, che illumina i miei sentieri e rafforza la mia fede. Che la tua saggezza e il tuo amore infinito mi accompagnino sempre, guidandomi in ogni passo del mio cammino. Invito tutti a iscriversi al nostro canale e ad attivare le notifiche per ricevere altri contenuti di luce e ispirazione. Condividete questo video con amici e familiari, diffondendo a tutti benedizioni e trasformazioni divine. Ricordate sempre, siete un essere di luce, capace di manifestare la prosperità, la salute e la felicità che desiderate nella vostra vita. Così sia, e così sia. Grazie a tutti.